Salve, io sono Mario Rizzuti, il proprietario del ristorante Scaccomatto di Sersale. Noi ci troviamo ai piedi dell'asila piccola. Oggi, come vedete, abbiamo dei funghi porcini freschissimi. La nostra cucina è prettamente a chilometro zero del territorio. Facciamo una cucina proprio più locale possibile. Noi facciamo in genere i funghi porcini, poi facciamo anche dei nostri piatti. Lavoriamo i prodotti locali, tipo le noci, facciamo i pesti con le noci, con la rughetta. In più, anche la cacciagione, il cinghiale, le verdure che ci regala questa stagione, dalle cicorie alle patate silane. E trasformiamo questo prodotto e lo rendiamo, lo mettiamo a tavolo. Ormai da 31 anni che siamo aperti. Cerchiamo di fare il meglio e veniteci a trovare presto qua da noi.